Incontri a scuola in tribunale è un evento ispirato a Raffaella Mauceri. Un femminicidio quasi ogni giorno denuncia per maltrattamenti, molesti e stalking con una sequela di ordini restrittivi da parte dei tribunali di tutta Italia nei confronti di mariti o ex compagni che perseguitano le vittime con pedinamenti, telefonate e messaggi. La violenza agita per mano maschile sulle donne è sistematica e continua a mietere vittime. In questo panorama a tinte forti il Centro Antiviolenza Ipazia si prepara a celebrare la ricorrenza del 25 novembre con una serie di eventi volti a stigmatizzare il fenomeno promuovendo da una parte la prevenzione attraverso l'educazione al rispetto e alla parità di genere nelle nuove generazioni dall'altra invitando le donne e chi è al corrente di maltrattamenti e o abusi su donne e minori a far emergere il sommerso. Solo trovando il coraggio di raccontare il proprio vissuto e di denunciare il proprio colsino può finalmente mettere la parola fine a una spirale di violenza che spesso oltre alle donne non risparmia nemmeno i figli anche in più tenere età. Gli appuntamenti ai quali le volontarie del Centro Antiviolenza Ipazia prendono parte durante la settimana si riferiscono alla giornata di questa mattina all'istituto comprensivo Manzoni Dolci di Priolo con lo spettacolo teatrale dal titolo Artemisia Gentileschi, una storia italiana. Domani, mercoledì 23, all'istituto comprensivo Archimede di Siracusa di mattina, questo non è amore, giornata di sensibilizzazione e informazione rivolta agli alunni delle terze classi dell'istituto comprensivo. E poi infine, venerdì 25, ci saranno manifestazioni presso l'istituto Gaggini di Siracusa, il Gorgia di Lentini e il Decilis di Rosolini.